Ora vediamo il servizio Abitare Sicuri. Favorire la permanenza delle persone anziane che vivono solo in condizioni di sicurezza ed autonomia, posticipando quindi nel tempo il ricorso all'accoglienza in strutture residenziali. Oggi è possibile grazie al progetto Abitare Sicuri. Si tratta della sperimentazione di nuovi servizi e nuove tecnologie nell'ambito dell'assistenza domiciliare a distanza per persone anziane autosufficienti o in condizioni di parziale non autosufficienza. Il via ufficiale alla sperimentazione è stato dato dall'assessore comunale competente Mauro Randi dalla residenza protetta per anziani di via Wintler. Come spiegato nel progetto saranno coinvolte attivamente una trentina di persone anziane autosufficienti. Il progetto Abitare Sicuri è un progetto promosso dal comune di Bolzano. È un progetto pilota che punta sulla ricerca e l'innovazione. Ha come target la popolazione anziana della città di Bolzano ed è volto a migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle persone anziane della nostra città. Il progetto permette infatti alle persone anziane di vivere il più a lungo possibile in condizioni di sicurezza nella propria abitazione usufruendo di un servizio di monitoraggio e di assistenza a distanza reso possibile grazie alle moderne tecnologie. Saranno così sperimentati il telemonitoraggio e la teleassistenza presso le abitazioni di una quindicina di anziani mentre con gli altri si sperimenterà il telemonitoraggio e la teleassistenza su supporto mobile. La durata complessiva del progetto pilota è di nove mesi e prevede una prima fase di comunicazione, training e preparazione durata due mesi quindi una fase di sperimentazione del sistema di telemonitoraggio e teleassistenza durata sei mesi ed infine la valutazione dei risultati un mese. Per quanto concerne la sicurezza dell'ambiente e degli utenti sono stati installati sensori in grado di rilevare fughe di gas, presenza di fumo, perdite di acqua, temperatura ambientale e umidità. I sensori e l'interfaccia utente adottati sono basati su una rete di sensori wireless e sull'impiego di una televisione tattile dotata di sistema touchscreen che comunicherà ad una centrale operativa i dati relativi alle condizioni dell'utente e della sua abitazione. In caso di anomalie verrà subito informata la centrale socio-sanitaria di Bolzano che avvierà i protocolli di intervento. La stima del costo complessivo del progetto di sperimentazione si aggererà sui 230.000 euro circa di cui 78.000 euro finanziati dal Comune di Bolzano e 50.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio per il noleggio delle attrezzature tecnologiche.